Approvato a maggioranza con 24 voti favorevoli e 11 contrari, il bilancio di esercizio 2022 dell'Ardsu, l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Il bilancio si chiude con un utile pari a 1.071.511 euro, l'80% del quale verrà destinato al Fondo Investimenti per la realizzazione di interventi necessari e urgenti. Nel corso dell'illustrazione del provvedimento, la Presidente della Commissione Istruzione Cristina Giacchi ha sottolineato l'obiettivo di focalizzare l'attenzione su problematiche sollevate dagli studenti, come il caro affitti e l'accesso agevolato al trasporto pubblico. Il sostegno agli studenti meritevoli che abbiano una fragilità economica, perché questo è il compito dell'azienda per il diritto allo studio, è un tema fondamentale per la diffusione del sapere e per la crescita democratica del nostro territorio e del Paese. Devo dire che la Toscana ha un orgoglio da mantenere alto, è quello di riuscire a soddisfare ogni anno tutte le richieste di borsa di studio degli studenti che si trovano ad avere i parametri per accedere al diritto allo studio, sia dal punto di vista dell'alloggio, sia dal punto di vista della borsa di studio erogata. Devo dire che il bilancio che abbiamo approvato, che è il Consuntivo 2022, porta anche un utile di un milione e abbiamo chiesto all'azienda di valutare e programmare con maggiore attenzione, perché in questo anno abbiamo anche assistito ad un aumento delle tariffe delle mense universitarie, che ha fatto molto inquietare gli studenti che infatti hanno protestato sonoramente con tutti noi. Devo dire che è chiaro che nel momento in cui si è configurato l'utile era già stata presa la deliberazione sull'aumento delle tariffe, abbiamo raccomandato all'azienda di lavorare con una programmazione delle risorse attenta a non generare utile e magari a ritoccare e a controllare le tariffe delle mense che tanto hanno pesato per gli studenti. Fra i voti contrari, quelli di Lega e Movimento 5 Stelle. Abbiamo votato contrari per vari motivi. C'è stato un aumento delle spese di circa il 44%, dovute in parte all'aumento dei costi energetici, quello lo sappiamo tutti, perché anche noi a casa l'abbiamo avuto, in tutti gli ospedali, dappertutto. Però ci sono stati anche aumenti non proprio secondo noi giustificabili. In particolare circa un mese fa abbiamo fatto un'audizione in Quinta Commissione per il problema del caro affitti a cui hanno partecipato enti, istituzioni e anche i rappresentanti dei ragazzi e da parte loro sono venute fuori diverse questioni. Oltre il caro affitto, dovuto anche al fatto, e questo ci ha molto colpito, che la maggior parte dei ragazzi non accetta il postoletto che viene dato con la borsa di studio. Abbiamo anche chiesto di fare un'indagine su questo perché ci sembra che un 52-53% che rifiuta il postoletto dato sia troppo alto come numero. La nostra valutazione è che sicuramente negli ultimi anni c'è stato un peggioramento nell'offerta dell'azienda regionale per il diritto allo studio e questo è un dato di fatto, lo testimoniano anche tutte le proteste degli studenti universitari in seguito anche all'aumento dei prezzi della mensa e ovviamente noi abbiamo votato contrario. Ma c'è anche da dire che rispetto alle dichiarazioni della Presidente della Commissione Cultura ieri in Consiglio dove ha fatto presente che l'azienda regionale per il diritto allo studio si occupa solo degli studenti meritevoli e bisognosi. Ecco, a nostro avviso questo è un problema di fondo perché l'azienda si dovrebbe occupare di tutti gli studenti, non soltanto di quelli bisognosi o meritevoli, anche per incentivare l'attrattiva delle nostre università su cui si dovrebbe fondare una vera e propria ripresa economica e di sviluppo. Ripristinare urgentemente il fondo per contrastare i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Questo è il contenuto della mozione approvata in Consiglio a maggioranza e presentata dai consiglieri del PD Marco Nicolai, Enrico Sostegni, Elena Rosignoli e di Italia Viva Stefano Scaramelli e Maurizio Sguanci. Per me una soddisfazione come primo firmatario di un atto che ha impegnato il Consiglio regionale della Toscana con un voto a larga maggioranza per far sì che il Governo possa reintrodurre le risorse sulla questione dei disturbi del comportamento alimentare, una patologia importante che negli ultimi tre anni ha visto raddoppiati i casi soprattutto di adolescenti, ragazzi e ragazzi che hanno difficoltà a convivere ovviamente con la nutrizione e l'alimentazione, questo comporta una patologia, una cura, di queste questioni si può anche morire se non presi in carico, servono servizi territoriali, un impegno forte del Consiglio regionale da una parte ad attuare i progetti già in corso come Toscana e un impegno a fare in modo che il Governo rimetta i soldi dello stanziamento dei 25 milioni. Per noi è una cosa estremamente seria, la questione della soppressione dei fondi legati ai disturbi alimentari che il Governo ha scelto di fare qualche giorno fa è una cosa che abbiamo ritenuto davvero grave nella sua importanza perché dobbiamo tenere conto che in questo Paese il 5% della popolazione è affetta da disturbi alimentari, anoressia, bulimia, il 5% della popolazione vuol dire che 3 milioni, in questa grande maggioranza donne, sono il 90% delle persone interessate a questi disturbi, ne soffrono. Sono donne in un'età compresa tra i 12 e i 25 anni, adesso addirittura si registrano patologie anche in bambini di 8, 9, 10 anni con un aumento del 30% di questo tipo di disturbo dopo la fine del lockdown. Ormai da anni, a dir la verità, ma soprattutto durante la pandemia, ci si sta ormai diffondendo una pandemia silenziosa che è quella dei casi di anoressia e bulimia e più in generale dei disturbi alimentari. In Italia abbiamo addirittura più del doppio dei casi diagnosticati da prima della pandemia alla situazione del 2023. È ancora più per questo inaccettabile che il Governo abbia tagliato la prima risposta che lo Stato centrale aveva dato nel 2021, un fondo di 25 milioni di euro, per la Toscana un milione e mezzo di euro, che ha permesso di rafforzare e aumentare la rete degli ambulatori sul territorio, per la presa in carico delle esigenze delle giovani e dei giovani e delle loro famiglie, perché è un autentico dramma. E veramente a dispiace che oggi le forze del centro-destra non abbiano partecipato al voto di questo atto, perché qui non è una questione di scontro politico, è un tema di civiltà. Diego Petrucci di Fratelli d'Italia ha chiesto il rinvio della mozione in commissione, in quanto il Governo nazionale ha assicurato il ripristino del fondo nell'entità di 25 milioni. I disturbi alimentari sono un tema molto serio e penso che debba essere affrontato in questo modo. Negli anni precedenti il fondo stanziato dal Governo ammontava 25 milioni di euro. Di questi 25 milioni, 15 negli anni scorsi non sono stati utilizzati, verranno utilizzati per rifinanziare il fondo, dopodiché con Fratelli d'Italia, con i parlamentari Chiara Laporta e Fabio Roscani abbiamo presentato un emendamento alla Camera per stanziare ulteriori 10 milioni di euro e quindi riportare il fondo ai 25 milioni come negli anni scorsi. Quindi noi pensiamo che già in queste ore il Governo con il Ministro competente annuncerà il rifinanziamento del fondo nella misura dei 25 milioni come negli anni precedenti e questo qui fa sì che se si ha interesse a raggiungere l'obiettivo e non a fare invece della bieca e strumentale propaganda su un tema importante, su un tema delicato come quello dei disturbi alimentari si debba prendere atto dell'iniziativa del Governo, vedere che cosa succede nelle prossime ore e poi eventualmente esprimerci. Noi non abbiamo partecipato al voto della mozione proprio perché pensiamo che era semplicemente un esercizio strumentale da parte del Partito Democratico. Andrea Ulmi della Lega ha dichiarato che quando ci sono i soldi non vengono utilizzati a dovere per la lentezza burocratica. Nonostante in aula i toni si siano alzati oltre il livello di guardia perché sono state usate parole forti, in realtà noi sappiamo da fonti governative che questi fondi non sono stati tolti ma verranno riimmessi. È per questo che alla fine davanti alla protervia della maggioranza che avevamo chiesto di rimandarla in commissione o comunque di aspettare dato che molto spesso succede che quando c'erano loro al Governo di fatto ci dicevano tanto è in istudio, è in istudio, è in istudio. Adesso gli stiamo dicendo che oggi pomeriggio probabilmente il Ministro Schillaci ripristinerà quei fondi quindi chiedevamo soltanto che venisse riproposto in commissione. Oltretutto ci sono delle questioni regionali che fanno propendere per un mal utilizzo dei fondi rivolti alla bulimia e all'anoressia in quanto per esempio, e io tiro fuori uno dei casi della mia zona, Casa Mora, che pur avendo soltanto sette persone semi residenziali avrebbe la disponibilità di 20 posti residenziali. Ma per orpelli burocratici questo non è avvenuto. Tanto è vero che io ho fatto due interrogazioni. A distanza di un anno, Estar si è mossa esclusivamente con una determina per cercare partner associati. Bravi tutti i volontari Avis, la nostra regione una terra unica di diritti, accoglienza, solidarietà. Così il Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo ha introdotto la premiazione della seconda edizione del bando La Toscana che fa bene, promosso dal Corecom in collaborazione con CESWOT e dedicato alla miglior campagna di comunicazione sociale realizzata nel 2022-2023 nella nostra regione. Un premio che quest'anno è andato a Avis Toscana. Questa è una di quelle iniziative in cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi perché prova a raccontare attraverso le immagini, i video, prova a raccontare quanto di bello le nostre associazioni di volontariato fanno. Una comunicazione sociale che arriva alle persone esattamente in linea con quell'idea che noi nella festa della Toscana abbiamo voluto portare avanti con forza, con le parole di Don Milani, I care o a cuore, con prendersi cura degli altri ed è quello che fanno le tante associazioni di volontariato. E provarlo a raccontare, così come ha fatto Avis Toscana che vince il premio come miglior video, va esattamente in questa direzione. Complimenti a tutti coloro i quali hanno partecipato, complimenti al Corecom per il lavoro importante che porta avanti e davvero grazie a tutti i volontari che nella nostra regione svolgono un lavoro, un impegno enorme per le nostre comunità. La cerimonia si è svolta a Palazzo del Pegaso, presenti il presidente del Corecom Toscana Marco Meacci, il presidente del Cersuot Luigi Paccosi e l'assessore alle politiche sociali Serena Spinelli. La seconda edizione è un bando e un premio a cui teniamo molto perché serve a mettere in evidenza, valorizzare le buone pratiche della comunicazione, in particolar modo in questo ambito della comunicazione sociale e di rilevanza pubblica. Per cui siamo molto felici che ci siano state varie partecipazioni, varie richieste di partecipazione a questo bando e è stata premiata la campagna di Avis Toscana perché era la campagna che secondo la Commissione che era stata istituita aveva il maggiore dispiegamento di strumenti sia sul web, sia nei canali tradizionali, sia per quanto riguarda anche le affissioni nei mezzi di trasporto pubblico locale. Quest'anno siamo molto contenti perché è stato anche quest'anno premiato un video molto bello, molto interessante di Avis che parla appunto di quello che poi succede nel volontariato, cioè che uno che fa volontariato lo dice a un altro perché capisce che fare volontariato e donare qualcosa agli altri è qualcosa che dà qualcosa anche a se stesso. Quindi questa esperienza che viene rivelata agli altri suscita interesse e quindi suscita anche la possibilità che altri possano avvicinarsi al nostro mondo. Noi siamo molto contenti, ringraziamo il Corecom per aver voluto di nuovo per il secondo anno premiare le migliori campagne di promozione di attività sociali, la Toscana che fa bene e c'è bisogno tanto di politiche sociali, non solamente di politiche di riparazione però di tutela dove già è già tutto determinato, scoppiato, c'è già la fragilità, c'è già la complessità ma di tutto ciò che crea connessioni di comunità, cioè di tutto ciò che determina la capacità delle persone di relazionarsi, di creare capacità di qualità della vita nelle loro comunità. Vince peraltro un'associazione, naturalmente ringrazio tutte quelle che hanno partecipato, molte le conosco, se non tutte. Ringrazio Avis di aver partecipato e poi vinto con una buonissima campagna anche perché, come dire, il valore sociale della donazione del sangue non è solamente un valore per chi riceve ma anche per chi dona, che fa un gesto gratuito, non sostituibile da nessun altro tipo di possibilità se non quella di donare il proprio sangue per gli altri e lo fa sapendo che questo è un gesto di grande, di vita per altri e quindi, come dire, una doppia donazione. Ha ritirato il premio il vicepresidente di Avis Toscana, Viro Pacconi. Siamo molto contenti di poter ricevere questo premio e della considerazione che ci viene data. Sono quegli stimoli che servono qualche volta anche nel mondo del volontariato per andare avanti, per cercare di costruire cose nuove in un discorso di promozione di carattere generale del dono in modo particolare. Quindi, voglio dire, in un momento abbastanza difficile, perché se consideriamo che il numero dei donatori negli ultimi dieci anni in Italia è diminuito di circa il 20%, una campagna di promozione fatta bene in una Toscana che fa bene, diciamo, può dare dei risultati importanti. Intanto quest'anno le donazioni non sono diminuite rispetto agli anni precedenti, per quanto riguarda Avis, anche se di poco, ma non sono diminuite. E di questo siamo davvero tanto contenti, come siamo contenti dell'esito di questa campagna. Un esito che una campagna, voglio dire, univoca, un po' su tutto il territorio della regione toscana, ma anche su tutto il territorio nazionale, dà un discorso di massimazione, massimizzazione delle cose e dei risultati, in qualche modo, perché in un concetto univoco di un'immagine che viene riconosciuta un po' da tutti, automaticamente ci si mette insieme l'obiettivo e quello che sostanzialmente si può fare. Grazie a tutti.